Nuovo appuntamento con consigli e consiglieri, dove si va questa volta? Questa volta consigli e consiglieri Val d'Olmo e San Bernardo, due quartieri molto importanti, due quartieri che hanno una loro storia fondamentale, due quartieri con diversi residenti e due quartieri che hanno al loro interno alcuni problemi. Infatti questo terzo incontro che si ha portato all'Olmo e San Bernardo nasce sulla richiesta di alcuni abitanti per poter esprimere una serie di problematiche che nella vita quotidiana comunque sentono e provano sulla loro pelle. Per cui questo è fondamentale, fondamentale perché la nostra iniziativa nasce per questo e posso dire che sono molto orgoglioso, siamo molto orgogliosi perché effettivamente veniamo chiamati nel organizzare queste iniziative perché proprio vogliamo dar voce ai cittadini e i cittadini vogliono che questa voce venga portata in Consiglio Comunale. Ecco, come la portate in Consiglio Comunale questa voce? La portiamo attraverso delle interrogazioni che presentiamo, delle interrogazioni con una richiesta di risposta scritta. Questo perché? Perché ci permette, una volta ricevuta la risposta dall'amministrazione, di poter riorganizzare un incontro con i cittadini stessi e poter leggere loro ciò che l'amministrazione nelle loro lettere ci risponde e ci promette ed eventualmente cerca di risolvere i problemi che i cittadini hanno portato alla luce. Dopo San Bernardo? Dopo San Bernardo abbiamo un quartiere delle Fanfani, che anche lì ci sono alcuni problemi e abbiamo già ricevuto molte richieste per organizzarlo. C'è il quartiere di Riolo, altro quartiere anche qui purtroppo, e dico purtroppo perché non è una bella cosa, sono in presenza di cui diversi problemi. e come ultimo l'Odi Centro, che l'abbiamo tenuta per ultimo anche perché vorremmo concludere questo primo giro, questo primo turno di incontro fermandoci nel centro della città. Ecco, allora l'appuntamento è per? L'appuntamento è per il 9 giugno alle ore 21.15 e nella sala civica di Villa Braila. Vi aspettiamo, vi aspettiamo numerosi, siamo sicuri che parteciperete. Ricordatevi che consigli e consiglieri non è nient'altro che la possibilità di dare la vostra voce nel Consiglio Comunale di Lodi.